E andiamo! Seconda vittoria in campionato, quarta vittoria consecutiva, bene bene bene, chiudiamo la prima parte di campionato perché adesso ci sono le soste con quattro vittorie, bene 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 e dico una cosa agli amici di Salerno, spero che l'anno prossimo giocate di sabato, dopo quello che è successo ieri dove avete schifato il pullman, se è così in una maniera becera vi auguro di andare in Serie B, Sì, avete tolto il pullman finalmente, avete preso quattro vappine e tutti a casa, quindi partita a senso unico, non c'è stata mai partita, nel primo tempo hanno messo il cosiddetto pullman, loro hanno fatto due passaggi nell'area di rigore nostra solo nel primo tempo, c'è proprio statistiche alla mano, dominio, solo come se la Roma c'è in campo, lui Patrisio non ha subito un tiro, Roma ottima, mi è piaciuta, ha giocato anche bene, abbiamo vinto contro il nessuno comunque perché la Salernitana insieme al Venezia, Sono le squadre a mio avviso più scarse del campionato, oggi bene tutti, hanno giocato bene tutti, doppietta di Pellegrini, che comunque Pellegrini ha iniziato bene il campionato, tre gol già per Pellegrini, se il ragazzo trova continuità può essere un giocatore importante, lo vedo rinato con Mourinho, lo vedo più motivato, più cattivo, perché comunque l'ultima possibilità di Pellegrini per esplodere definitivamente, se fallisce con Mourinho, il giocatore è questo. Poi del resto segna Jordan Veredu su un'azione bella manovrata della Roma, Carles Perez, palla per Abram, palla per Mkhitaryan e poi Veredu ha dei tempi di inserimento da fuori classe, comunque Veredu, tre gol in campionato, in due partite, se riesce a trovare continuità e non si infortunia come l'anno scorso, cioè può essere un giocatore fondamentale, non è che deve trovare continuità, dico continuità a livello fisico, comunque non è un giocatore frascico, però l'anno scorso ha avuto due stop pesanti. Poi del resto, 3-0, poi il 3-0 lo segniamo con Tammy Abram, che fa un gol da centravanti, vero, sono contento che l'inglese Tammy Abram si sia, come ne posso dire, si sia sbloccato con un bellissimo gol, dove Belez non può nulla, Belez è portiere manco da condominio, perché sul gol di Pellegrini fa una papera, ma godiamo. Poi del resto, 4-0, Belez grini fa un bellissimo gol a giro, può dire a giro, e segna 4-0 Roma, stava per segnare Shomuro, Dov, Bayoral, comunque la partita poteva finire anche con un risultato più ampio, Euripadrisio senza voto, comunque non ha fatto nulla, Vigna, ottima partita, bella assist, Smolling si smolli, i Bagnets e Mancini non pervenuti, perché comunque l'attacco della, di come si chiama, della Salernitana è nullo, A destra Karlsdorf ha fatto il suo, vero, ottima partita, Cristante, partita di intensità, partita di sacrificio, comunque quello è Cristante, poi del resto Mkhitaryan un po' in ombra, anche se fa assist, lo so che l'esterno non è il suo ruolo, Carles Perez è bene, Pellegrini benissimo e Tammy bene. Sono contento, ho tre punti fondamentali, adesso c'è la sosta nazionali, godiamoci le nazionali sperando che non si spacchi nessuno, E poi testa al Verona di Difra, dai!